Presentato oggi alla stampa, il gruppo di lavoro che si occuperà della redazione del nuovo piano regolatore generale di Ortona, che si rende necessario a seguito dell'annullamento da parte del Tarabruzzo del PRG approvato nel 2012 dall'allora amministrazione guidata dall'ex sindaco Nicola Fratino. Con la deliberazione di consiglio comunale del 28 gennaio scorso è stata approvata l'agenda programmatica per dare avvio al procedimento di revisione, integrazione e modifica del PRG e si è quindi provveduto a costituire l'ufficio di piano e ad individuare il gruppo interno di progettazione composto dall'architetto Margherita Fellegara, coordinatore dell'ufficio di piano e progettista, dal responsabile del procedimento ingegner Nicola Pasquini, dall'architetto Domenico Silvestri che si occuperà degli aspetti ambientali e paesaggistici, dal geometra Giancarlo Paludi che si occuperà degli aspetti gestionali connessi all'attività edilizia, dalla signora Concetta Rapino che invece sarà impegnata a gestire le attività connesse al SIT, dalle signore Antonella Ricci e Adriana Gentile che affronteranno gli aspetti procedurali e amministrativi. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 si è provveduto al conferimento degli incarichi professionali per le attività specialistiche correlate al procedimento di approvazione del PRG, in particolare sono stati conferiti i seguenti incarichi, studio geologico affidato al geologo Massimo Mangifesta, attività di supporto al SIT, al dottor Mauro Zappalorto, microzonazione sismica al geologo Davide Delrico. La valutazione ambientale strategica sarà realizzata dagli architetti Luisa Volpi, Roberto Mascarucci e Arcangelo Cristini, dalla biologa Maria Carla De Francesco e dalla geologa Angela Faraone. Il censimento degli edifici rurali sarà affidato al dottore agronomo Carlo Donato Civitarese. La zonizzazione acustica è affidata invece all'ingegner Diego Viziori e al perito industriale Sandro Spadafora. Nel prossimo Consiglio Comunale di mercoledì 26 febbraio verranno quindi sottoposti ad approvazione il documento programmatico di piano, il rapporto ambientale preliminare VAS con contestuale presa d'atto del rapporto delle attività svolte in relazione all'iniziativa denominata territori in ascolto. A distanza di circa un anno dal procedimento del tar di annullamento del PRG 2012, dichiara l'assessore all'urbanistica del comune di Ortona Gianluca Coletti, andiamo verso la conclusione del processo di revisione e modifica del PRG e degli adempimenti obbligatori previsti per legge VAS e microzonazione sismica. Il nostro impegno, prosegue Coletti, è quello di dare alla città un nuovo strumento urbanistico entro l'anno, soddisfatto anche il sindaco d'Ottavio che ha rilasciato questa breve dichiarazione ai nostri microfoni. È uno strumento urbanistico molto importante che la città aspetta da anni e questa volta ci siamo davvero grazie all'accelerazione impressa dalla mia amministrazione, in particolare dall'assessore Gianluca Coletti che ha coinvolto non solo i professionisti interni ma anche esterni alla città proprio per fare davvero prima. La città ne ha bisogno, ne ha bisogno l'economia di questo territorio e soprattutto sono i cittadini che aspettano da svariati anni.